Dopo aver effettuato l'accesso su istanze online, cercate il box Elenchi aggiuntivi gradatori provinciali di supplenza personale docente ed educativo e cliccate su Vai alla compilazione. Scorrete lungo la nuova pagina e cliccate su Accedi. Se, come in questo caso, avete già effettuato l'inserimento nelle GPS, in questa sezione vi comparirà la provincia scelta lo scorso anno e non sarà possibile modificarla. Questo significa che vi inserirete negli elenchi aggiuntivi della medesima provincia. Se invece vi state inserendo nelle GPS per la prima volta, in questa sezione dovrete inserire la provincia di inserimento. Cliccando su Avanti visualizzerete i vostri dati personali, cliccando ancora su Avanti accederete all'istanza. Per prima cosa dovete indicare in quale elenco aggiuntivo volete inserirvi. Per farlo, andate nella prima voce Scelta gradatori di interesse, cliccate su Azioni disponibili e poi su Accedi. Nella nuova pagina visualizzerete le eventuali gradatorie in cui siete già inseriti. Per inserirvi nell'elenco aggiuntivo nuovo, cliccate in basso su Aggiungi gradatorie. A seconda del titolo che possedete e che vi dà accesso agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia dovrete selezionare un diverso tab. Se vi state inserendo con un'abilitazione per la scuola primaria o dell'infanzia, dovrete cliccare su Tab 1. Se invece possedete un'abilitazione per la scuola secondaria, di primo o secondo grado, Tab 3 oppure Tab 5 se siete insegnanti tecnico-pratici. Se invece possedete la specializzazione su sostegno, Tab 7. Infine, Tab 9 per il personale educativo. Selezionando ad esempio Tab 3 dovremo indicare la specifica classe di concorso e successivamente la modalità attraverso la quale abbiamo ottenuto l'abilitazione. Se ad esempio l'abilitazione è stata ottenuta attraverso il superamento di un concorso abilitante come il concorso straordinario 2020 oppure il concorso ordinario 2020, compresi i concorsi STEM, bisognerà selezionare la prima voce. Vi ricordo che la FAC numero 44 del Ministero sulle GPS stabilisce che il conseguimento dell'abilitazione si ottiene all'atto della pubblicazione della gradatoria di merito. Di conseguenza, se la gradatoria non è ancora stata pubblicata, non si è ancora in possesso dell'abilitazione. È però possibile iscriversi con riserva se si otterrà il titolo entro il 30 giugno 2023. C'è una voce apposita ed è l'ultima della lista. Ricordo inoltre che nel caso in cui l'iscrizione avvenga con riserva, tra il 21 giugno e il 4 luglio bisognerà comunicare attraverso il sistema il conseguimento dell'abilitazione per poter sciogliere positivamente la riserva. Se tale comunicazione non avverrà, la riserva sarà sciolta automaticamente in modo negativo. Ricordo che i vincitori del concorso straordinario BIS otterranno l'abilitazione al lato della conferma in ruolo. Di conseguenza, non possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi neanche con riserva. Se scegliete questa opzione, prima di andare avanti dovrete indicare che vi impegnerete a comunicare lo scioglimento della riserva. Se invece la gradatura di merito è già stata pubblicata, come vi ho anticipato prima, bisogna selezionare la prima voce e in automatico compariranno dei campi in cui bisogna specificare la procedura attraverso la quale si è ottenuto il titolo di abilitazione. Ad esempio, se è stato ottenuto attraverso il concorso ordinario 2020, potremmo scrivere concorso ordinario, decreto direttoriale 499 del 2020 e successive modificazioni. Oppure, se è stata conseguita attraverso il concorso STEM 2021, possiamo scrivere appunto concorso STEM 2021, decreto legge 73 del 2021, articolo 59,18, decreto direttoriale 826 del 2021. 2021. Bisogna poi indicare la data di conseguimento e nel campo successivo bisogna indicare l'istituzione per cui è stata conseguita l'abilitazione. Nel caso dei concorsi si tratta dell'ufficio scolastico regionale di iscrizione al concorso. Infine, bisogna indicare il voto dell'abilitazione. Nel caso dei concorsi, la FAC ministeriale numero 49 ci informa che il punteggio da considerare è quello totale della gradatoria di merito, quindi comprensivo sia delle prove sia della valutazione dei titoli. Qualora la base del concorso fosse diversa da 100, il sistema provvede automaticamente a una proporzione. Se il voto non fosse intero, la parte decimale deve essere separata da un punto. Il sistema provvederà in automatico quindi a convertire il voto in centesimi e le eventuali frazioni di voto saranno arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Quindi questo arrotondamento viene fatto automaticamente dal sistema, non deve essere fatto da noi quando si inserisce il voto dell'abilitazione. Qualora nell'abilitazione non sia indicato un punteggio, si può chiedere di avalersi del punteggio di 8 punti spuntando su questa voce. Infine, il sistema consente di dare ulteriori specifiche sul proprio titolo di abilitazione. Ad esempio, per chi non l'ha conseguita attraverso il concorso, ma attraverso alcuni percorsi abilitanti come le SIS, TFA, può spuntare queste voci. Nel caso del concorso invece bisognerà spuntare l'ultima voce, nessuna delle voci precedenti. Cliccando su inserisci, ritornerete in automatico all'elenco di tutte le gradatorie in cui siete inseriti, in cui comparirà anche la nuova gradatoria. Se lo scorso anno vi siete inseriti nella medesima gradatoria nella seconda fascia, troverete in corrispondenza di quest'ultima un avviso secondo il quale la gradatoria risulta essere ripetuta in prima fascia. Cliccate su indietro per continuare la compilazione dell'istanza. Passiamo ora all'inserimento dei titoli culturali. Possono essere valutati tutti i titoli conseguiti entro il 31 maggio 2022, che corrisponde alla data ultima di presentazione delle domande nelle GPS per il bienio 2022-2024. Se quindi, ad esempio, avete conseguito un titolo il 30 giugno 2022, non sarà possibile inserirlo in questo momento. Potrete farlo all'apertura delle GPS del prossimo anno, nel 2024. se avete inserito dei titoli culturali in una precedente domanda di inserimento nelle GPS, dovrete ripeterli in questo nuovo tab. Questo perché i titoli culturali vanno ripetuti per ogni tab. Esiste però una funzione che permette di importarli senza doverli ripetere da capo. Si tratta della sezione Importa titoli interiori rispetto al titolo di accesso. Cliccando su Azioni disponibili e poi su Accedi sarà possibile l'importazione. In questa sezione troverete tutti gli eventuali titoli precedentemente inseriti nei diversi tab. In questo caso ne abbiamo alcuni per il tab 3 e altri per il tab 4. Per importare i titoli basta cliccare sul tasto Importa nella domanda in corrispondenza di ciascun titolo. Dopo aver cliccato, come vedete, il tasto non sarà più cliccabile. Per verificare che l'importazione sia venuta correttamente, guardate il messaggio che vi compare in alto. Deve comparirvi scritto Operazione conclusa correttamente in verde. Non preoccupatevi invece del messaggio in giallo. Sta semplicemente ad indicarvi che i titoli sono stati importanti solo nella specifica tab in cui ci stiamo inserendo, in questo esempio tab 3. E non sono invece stati importati negli altri tab 1, 5, 7 e 9. Se dovete inserire dei nuovi titoli culturali conseguiti entro il 31 maggio 2022 e che non avete dichiarato in precedenza perché è la prima volta che vi state inserendo nelle GPS oppure perché vi siete dimenticati di inserirli nel precedente aggiornamento, basta che accediate alla sezione Titoli ulteriori rispetto al titolo d'accesso cliccando su Azioni disponibili e poi su Accedi. In questa sezione troverete sia gli eventuali titoli già importati e sono quelli che trovate con questa spunta verde con la scritta Sezione compilata, sia avrete la possibilità di inserire nuovi titoli. Per farlo basta posizionarsi in corrispondenza del titolo, cliccare su Azioni disponibili e poi su Inserisci. Sull'inserimento dei titoli culturali mi preve segnalarvi alcuni errori tipici. Ad esempio la sezione B1 riguarda lauree o diplomi accademici di secondo livello che non costituiscono il titolo di accesso all'abilitazione, ciò significa che riguarda lauree o diplomi accademici ulteriori rispetto a quelli che ci hanno dato accesso all'abilitazione. Analogamente la sezione B2 riguarda lauree triennali o diplomi accademici di primo livello ulteriori rispetto al titolo di secondo livello che ci ha permesso di ottenere l'abilitazione. Altra sezione a cui bisogna prestare attenzione è la B6. Non devono compilarla coloro che hanno già indicato il concorso fra i titoli di accesso alla prima fascia delle GPS. Tutti i titoli che compiliamo in questa sezione devono essere ulteriori rispetto a quello di accesso. Quindi coloro che si sono abilitati tramite il concorso ordinario 2020, ad esempio, non devono compilare questa sezione. Un'altra sezione che crea spesso dubbi è la B9 che riguarda gli assegni di ricerca. Sono valutabili solamente gli assegni di ricerca banditi ai sensi delle normative qui citate. Quindi borse di ricerca o altri tipi di contratti di ricerca banditi ai sensi di altre normative non sono valutabili. Inoltre la fac numero 14 del ministero sulle GPS spiega che l'attività di ricerca è valutata rispetto al bando non ha la durata. Di conseguenza si possono inserire assegni di ricerca in corso, anche assegni di ricerca che hanno una durata inferiore ad un anno e i rinnovi non sono considerati come nuovi assegni di ricerca. Un altro titolo che crea spesso confusione nella compilazione è quello del CLIL. Infatti sono presenti diverse voci. La sezione B12 riguarda il CLIL ottenuto attraverso specifici percorsi riservati ad abilitati comprensivi di 300 ore di tirocinio. Se invece possedete un CLIL che è stato conseguito attraverso un corso di perfezionamento da 60 cfu e 1500 ore e se possedete anche una certificazione linguistica dovrete inserire il titolo nella sezione B13. Se invece non possedete la certificazione linguistica il titolo potrà essere considerato un classico corso di perfezionamento o master e sarà valutabile nella sezione B15. Una volta concluso l'inserimento di tutti gli ulteriori titoli cliccate su indietro per ritornare nella pagina principale dell'istanza. Gli altri titoli che potete inserire sono quelli di servizio. Anche questi devono essere conseguiti entro il 31 maggio 2022 ma a differenza dei titoli culturali se ne avete già inserito questi non devono essere importati nei nuovi tab. Infatti i titoli di servizio si inseriscono una sola e unica volta e vengono valutati automaticamente in tutti i posti classi di concorso anche di tab differenti. Per inserire un servizio è sufficiente cliccare su azioni disponibili e poi su accedi. In questa sezione troverete eventuali servizi già inseriti in precedenti aggiornamenti delle GPS e eventuali altri servizi registrati a sistema non ancora inseriti nelle GPS. Per inserirli basterà cliccare su importa nella domanda. In questa sezione anche nel caso in cui il servizio sia stato importato bisognerà compilare alcuni campi. Il primo riguarda la gradatoria su cui far valere il servizio. Vi ricordo che se il servizio è specifico cioè svolto nella specifica classe di concorso opposto il punteggio è pieno. Se è svolto in altra classe di concorso opposto è invece dimezzato. Di conseguenza in questo campo conviene indicare la specifica classe di concorso in cui è stato svolto il servizio. In questo esempio la classe di concorso A27. In questo modo il sistema trova una corrispondenza fra la classe di concorso in cui il servizio è svolto e la classe di concorso su cui chiediamo la valutazione e quindi lo valuta come specifico in questo caso e poi automaticamente come a specifico in tutti gli altri posti e classi di concorso. Se state importando il servizio l'anno scolastico sarà già indicato altrimenti dovete inserirlo a mano. Attenzione a questa voce indicatore della valutazione al 50% secondo l'articolo 15,4 dell'ordinanza ministeriale perché riguarda il servizio prestato nelle scuole private non paritarie. In tal caso il servizio è valutato al 50% e quindi se si spunta questa voce automaticamente il sistema lo considererà tale e quindi il punteggio sarà dimezzato rispetto a quello delle scuole statali e paritarie. La voce successiva riguarda il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero. Se il vostro servizio è stato prestato in scuole in Italia dovrete allora spuntare no. Se state importando il servizio come in questo esempio sarà già compilato il campo della classe di concorso opposto in cui è stato prestato il servizio. Bisognerà invece compilare il campo successivo quello relativo alla tipologia di servizio. Nel campo tipologia di servizio bisogna selezionare una delle otto voci presenti. Quattro riguardano il servizio specifico indicato con la lettera C1, le altre quattro il servizio a specifico indicato con la lettera C2. Dato che nel campo iniziale avevamo indicato la medesima classe di concorso in cui il servizio è stato svolto si tratta di servizio specifico quindi dovremo selezionare uno delle voci con C1. Ce ne sono quattro. La prima A.C1 riguarda il servizio svolto nelle scuole statali paritarie nelle scuole militari. B.C1 riguarda invece il servizio svolto presso gli istituti di istruzione e formazione professionale. C.C1 riguarda particolari progetti regionali manditi essensi della legge numero 167 del 2009 come il pugliese diritti a scuola e il sardo tutti a scuola. Infine D.C1 riguarda invece servizi prestati all'estero. La voce successiva riguarda il servizio prestato dall'anno scolastico 2003-2004 all'anno scolastico 2006-2007 nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna o nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari. In tal caso il servizio è valutato doppio per questo motivo scritto su per valutazione. Se non si tratta di un servizio di questo tipo andate avanti. Se il servizio è un'annualità svolta su posto di sostegno va spuntata questa voce mentre nel nostro caso dato che non lo è andiamo avanti. Dato che stiamo importando il servizio sono già compilati in automatico i campi sul periodo di servizio e il numero dei giorni compresa anche l'istituzione, la provincia e il comune. Provincia e comune compaiono comunque in automatico quando si seleziona la specifica scuola anche quando si sta inserendo il servizio manualmente da zero. Una volta compilati tutti i campi clicchiamo su inserisci. A questo punto la domanda è quasi conclusa. Si può compilare la sezione relativa ai titoli di riserva, una sezione per coloro che usufruiscono della legge numero 68 del 1999. I titoli di riserva devono essere dichiarati se l'aspirante si sta inserendo nelle GPS per la prima volta dall'inizio del bienio. Chi invece è già inserito visualizzerà i titoli di riserva che sono già stati dichiarati al lato dell'inserimento. Se non sono mai stati inseriti i titoli di riserva in precedenza possono essere inseriti in questo momento ma varranno solamente per gli elenchi aggiuntivi della prima fascia. Inoltre i titoli di riserva devono essere posseduti entro il 31 maggio del 2022. La sezione dei titoli di preferenza invece serve per determinare l'ordine di gradatoria per gli aspiranti che sono a parità di punteggio. Ci sono tutta una serie di titoli che possono essere spuntati. Fra questi abbiamo per esempio il numero di figli oppure l'aver prestato servizio senza demerito per almeno un anno alle dipendenze del MIUR. La sezione altre dichiarazioni riguarda alcune dichiarazioni sul proprio stato civile, sul non aver subito condanne penali e altre voci di questo tipo. Infine vi è la sezione per la scelta delle 20 scuole delle gradatorie d'istituto. Ricordiamo che oltre alle gradatorie provinciali per le supplenze che vengono utilizzate per supplenze il 30 giugno e il 31 agosto su tutte le scuole della provincia vi sono correlate ad esse le gradatorie d'istituto. Gradatorie per le supplenze temporanee specifiche per le singole scuole. È possibile scegliere 20 scuole per ogni classe di concorso opposto. Di conseguenza se vi state inserendo nell'elenco aggiuntivo di una classe di concorso opposto in cui eravate precedentemente inseriti in seconda fascia non dovete aggiungere nuovamente le 26 per le gradatorie d'istituto perché valgono quelle precedentemente scelte per la seconda fascia. Se invece si tratta di un nuovo inserimento allora dovete scegliere anche le 20 scuole. La domanda è un'autocertificazione ciò significa che non bisogna produrre certificazioni dei titoli e dei servizi. Tuttavia ci sono alcuni titoli e servizi che potrebbero non essere autocertificabili come quelli svolte all'estero. Di conseguenza è stata inserita questa sezione legati per poterli inserire. Una volta completata la compilazione cliccate su inoltre e riceverete il pdf con la vostra domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.